Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa ventesima puntata della Pixelmon Yeah, ma già siamo arrivati a 20 episodi Eh già, visto? E' stato veloce come cosa, ti ricordi la prima puntata? Siamo venuti qui, non sapremmo un cazzo Lasciato mi piace Oh guarda, ma che c'è uno Snorlax... Snorlax Shiny Snorlax Shiny, per esempio Ma che brutto, sembra che l'hanno verniciato veramente con la vernice Lasciato mi piace per lo Snorlax Shiny Che sparito E l'ha tolto Allora, perché ci troviamo qui, Queenfair? Perché tu hai preso altre chiavi, maledetto Sì, ho le chiavi, perché io voto il server, sono una brutta persona E 3, 2, 1, vai! Wow! Che t'è uscito? L'annaffiatore Wildmare Oh, c'erò anch'io l'annaffiatore Che cacchio serve? Ne apro un'altra, speriamo che mi esce una leggenda Rikei Leggenda Rikei! Qual cazzo? Easy, gold e gold glass Che serve sto coso? Non lo so Ma che è? Te lo puro io però Per fare gli attacchi terroristici, Isis? Te lo ho nell'inventario Ma che è? Ma no, aspetta, Queenfair, scusami Ma se poi riempi d'acqua sto coso? Non lo so No, non penso Che cazzo serve? Che cazzo serve? Fanno a fia... Lol Fanno a fia... Ma c'è le gigocche? Lasciatevele... Guarda veramente, lasciatemi un commento, sto scritto a che cazzo serve quel codo Io non lo so Torniamo a casa, ma qua la gente si fa le pippette con i magi, Carpo Allora, Queenfair, io carcola prima sono andato sul market e ho comprato una Master Ball Non puoi comprare Master Ball, basta Sì, catturo tutti i Charizard catturo con questa Lol Comunque ragazzi, nei commenti ci hanno scritto Che un ragazzo ci ha scritto che praticamente il server non lo resettano Cioè resetteranno un altro server, non questo Il Pixel Spark Ma purtroppo nel Red e negli altri penso resetteranno il mondo, quindi spariranno le case, suppongo Sì Le case, tutto quello che rimane Oggetti, tutto Quindi siamo, almeno io mi sono riempito l'inventario di quello che non voglio perdere Sperando che non lo perdasci fuori da casa Ma perché c'è un eletrodo dentro casa? Lo rotolavo dentro casa, rotolando verso sud Infatti rotolava veramente verso sud Guarda qui, perché ho comprato? Che è? Un fossile Ah, pensavo fosse un zaino Penso che È un cabuto Oh, che carino Cabuto, cabuto Cabuto, cabuto Sì, ora ci mette gli anni qua Addio proprio Vabbè, mentre questo pulisce Tiè, questa te la regala a te Tiè, così trovi in Charizard Davvero? Ma scusa, ma se risettano e magari tolgono pure l'inventario e... E tu lo catturi prima Oh Un Weepi bello 45 Ah, un'altra cosa molto carina Guarda, Queenfer, che ti faccio vedere Dai Fammi vedere Ok Oh, l'hai fatta l'evolve In sta rabbia Devi fare l'evolve ancora di più Che gli dentro gli occhi ghiaccio Bellissimo Eh, devo aspettare il livello 30 30, 36 Non mi ricordo che l'evolve Questo coso Ma perché lo puoi usare nelle palestre? Ma non mi farebbe schifo Posso usare il livello 40 in qualche palestra Cazzo, Charizard, il livello 41 Che peccato Ah, peccato davvero Che peccato Vabbè, lo puoi usare il livello 50 C'hai ragione Perché c'è un piccone si chiama Gina Drill? Non lo so Ah, e quando quei ragazzi mi hanno regalato Tipo la peggio roba C'è stato pure questo piccolo in mezzo Perché si chiama Gigative però? E tu provo a farlo Vediamo l'essenziale C'è stato qualche modo Per far gli enchant sulla roba Oh mio Dio Guarda davanti il piccolo Kabuto Cioè, Kabuto Guarda Forse deve crescere Si deve Oddio Oddio, mi risposta Si sembra una formiga Io vedo una coccinella, regà È quella che vedo pure io È carino Piccolo Vabbè Se ti vieni così piccolo Rido Come sei cattiva? L'ho cercato Ma come sei cattiva? Io anche voglio cercare il mio Un Pacirisubos No, distruggilo Io non lo vedo sto Pacirisubos Lo so che te che cammini Non sa niente Non vedi sto Eccolo Preso No, vedo un vedo Fa il dracca di un Pacirisubos Ello 75 E che gli fai? Oh mazzo Ma non la metà vita Su coso? Su Venusaur Che cosa? Vabbè io metto sta rabia Pokémon Luxray Dai, 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 dai Che l'ammazzo Ti ho un po' che metà Queenfer Che ti dà? Che ti dà? Metà Che ne so Mumu l'ammazzo Vedo che metà Morto Morto Starabia al 16 17 18 Impara Rimonta E togliamo doppio team Rimonta? Che cosa? Mi ha dato un globo neutro Un MT87 Bullo E due pietre focaie Wow Le pietre focaie Sì Vuoi le pietre focaie? Ah, non ce le avevo un po' Proprio, se no, niente Come no? No, non era mai sparito No, che sfiga, è vero C'è Ivy che potrei farlo diventare Flareon Ma no, ma non voglio Una volta no, non voglio Vabbè, io metto da parte Tanto sta qua nella cassa Prima che resettano No, non mette la roba nella cassa Niente l'addosso Vabbè, poi la riprendo Resettano tipo domani Poi la riprendo Guarda, vedi che sta cresce Caputo Dici, aspetta Eccolo Madonna che brutto Sembra Sembra una macchina Col copertone sopra Tipo la coperta Ma poverino Già è brutto Comunque come poi Ma non è bellissimo Potrei usare Caputo Nella palestra Al posto di Omanite Non lo so Perché è lotta Se non sbaglio No, sto di una cazzata Sto di una cazzata Come sempre Perché non mi ricordo Ste cose Un po' come inutile Che io non mi ricordo mai Tu ti ricordi solo Charizard Charizard Devlution Charizard 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 È un pazzito Io voglio cercarlo anch'io Un Charizardino Allora, andiamo a cercare Un Charizard per Queenfer Intanto qua infilo una Pokeball Per questo No, aspetta C'era un ragazzo Che diceva che C'era il suo Po che manda solo Tipo Ah, che voleva regalarti Un Charmander Perché Gli dispiaceva L'accelo da solo Eh, ma non c'è Mi sa Non è online Mi dispiace per lui Vabbè Dai, ne prendo un altro E poi c'è proprio E lo prendiamo In consegna anche quello Facciamo l'allevamento Charmander Gli allevamenti Charmander Proprio Vediamo Una Queenfer Alle prese Nel prendere Uno schermori Ma guarda Tu lo vedi che saltella Buffo Sì lo so Te lo fa apposta Non riesci Prendelo Ok l'ho preso Ah Ora ma con che cosa Però Catturalo con Non lo so È un livello 28 Il tuo Crocone È un livello 16 Po che Ma posso mettere Vale per il livello 27 Vai Però l'acciaio Non gli fa niente Ti porta uno De vita Poi gli inizio A tirare le Ultra Boh Tanto ce l'hai no? Se no No Bonita Però 33 Gli fa male Ma finì che Vale per il livello Muore Davvero Eh sì Ma è d'acciaio Non gli fa niente L'arbonici C'è via le botte E metti Bonita Eh ma gli si fa male lui Poi dopo Dici Dici che lo shotti Mh Non fai le mosse de fog O fai Che ne so Qualcos'altro Non ce l'ho mi sa Perché mi sei L'ha fatto male Vula poi L'ha portato a me Gigi L'ha fatto corpo critico Stoscarmory Sarà uno dei tuoi Pokémon più forti Se lo pigli Gli faccio riduttore Ma poco Gli hai fatto una sega No no Gli hai fatto qualcosa Ma Va bene così Gli ne faccio due A meno Non ti muore prima No Non è morto Gli ne ho postato pure un altro Dai proviamo con l'ultimo Ma davvero lo shotti Tipo colpo critico Eh si l'ho shottato No no Ma ha fatto lui il colpo critico Non io Ah si è morta tu Sì è morto la mia Buona Ho fatto un colpo critico Percazzuzza Con lui non so bene o male che fai Però Vabbè Vola quanto sta scusa Vida gialla Però la cosa brutta è che non lo vedo più Vabbè Tira la Pokéball Vedi che succede Proviamo Al massimo si è buggato Io tanto griffo casate questo Mi serve ligno E nel frattempo Si fa giorno Quindi è arrivata l'ora di buttare la Master Ball No niente non me lo piace Secondo me si è buggato Vabbè Domino Botta in testa E va con cui Io cerco Charmander Oh Stavo per cascare sotto Io pensavo che hai trovato Charmander No Stavo cadendo Sto prendendo Infarto Io ho trovato un Riolu Riolu? Sì E lo ripeto Perché ho fatto una cazzata Con l'altro Riolu Che l'ho fatta Ria subito al venti Senza fargli venire la felicità Ma perché non si vuole Se non è felice Ah ah Ora mi sa che ho fatto una cazzata pure io Come ti fa Poi mi arriva la felicità Qua però Eh Lo devi tenere fuori dalla Poké Ball Oh Io faccio da vedetta Tantano Tu mi do Riolu Vuoi entrare nella Poké Ball? Vuoi la Master Ball? Oddio Ne compro un'altra Tanto c'ho i soldi Eh Con il Big Money Con tutte le Master Ball del mondo Big Money proprio Perché poi nel gioco Te ne davano una E non l'ho mai usata Ma io non capisco come fa la gente A trovarla Sta cazzo di Master Ball E questo non capisco E poi rivendela Dove la trovi? Dove si prende? E dove la fanno? No Non c'è un craft No No Non ci si è avvento Shiny Squirtle Wow Ebbè no Te lo assicuro Ehm C'ha 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 Gusha Verde Oddio Blast Sizer Non mi piace Gusha Verde Non mi piace Gusha Verde Eh mi sembra di sta Cioè Tu giuro Mi sembra di sta a catturare un cazzo De leggendario Wow Ho visto un Onyx Che ho trovato Un Itamolii Un Machop piccolissimo Che è il più piccolo del Rattata Che avevamo visto Madonna Veramente Il più piccolo del Rattata Te lo giuro Dove lo viene a vedere Vieni a vedere il Machop piccolissimo Ho catturato Riolu Ho catturato Riolu Poi in ferro Ce l'ho fatta E l'hai fatta? Sì Dov'è il Machop minuscolo Che è il Mestere D? Dov'è? Stai vicino a quella casa che stai a griffare Sempre se non trovo un Charmander prima E vabbè Dov'è? Dai vieni vieni Dov'è ti vedi a me? Sì ti vedi Vai continuo Guarda Guardi No Qua Non lo vedo No è piccolo È come il boss Charmander Ma che cavolo sei Ho sentito Charmander Queenfer Queenfer Ho sentito Charmander Cercalo Dove? Non lo so L'ho sentito Io non riesco a vedere i Pokémon Nemmeno io lo vedo Queenfer Queenfer Ti prego Eccolo Eccolo davanti a te Non lo vedo io Prendilo Io lo sento Come si tira Come si tira la Pokémon? Ma che ti tira il Pokémon? Che stai a fa? Oh Ok Tira sta Master Ball Tira la Tira la Vai Sì Stupido Charmander Di merda Eh So troppo forte So troppo forte So troppo forte So troppo Ti entro dentro Queenfer So troppo forte No So troppo forte Eh Queenfer Vai l'ho preso L'ho preso Compiuta Eh La maledizione è stata spezzata Allora si Evviva Evviva Non ci credo Evviva Andiamo a fare Wonder Trade Evviva C'hai un orecchio per quel cha? Sì sì Oramai La maledizione proprio Ce l'ho in testa Presento cha Charmander Vabbè Se voi gli urlate cha Lui se gira a casa C'è che c'è Vabbè andiamo a casa Andiamo a fare il Wonder Trade Ci sei Queenfer? Sì Dai che mi tolgo sto cazzo di uomo Intanto fammi caccia fuori sto Charmander Tieni guarda Guarda che carino Quanto è carino Facciamo cambi Ti do il mio Charizard No Voglio Charmander Va caccare Slash Wondertrade Uno Ok Slash Butti Uno Confirm E mostro pure lui Che peccato Qui per questo te lo regalo Oddio Ehi Non riesco a vedere Però è Growlit Che carino Se vuoi questo qui Potevo regalo Perché io già ce l'ho Ok Lo vuoi? Vabbè la prossima puntata dai Allora ragazzi Noi ci vediamo alla prossima puntata Mamma mia Queenfer che potta di culo che c'hai Eh? No veramente è stato grazie a te Io non l'avevo sentito Eh non lo vedevo Però lo sentivo Io non l'ho sentito niente Però mi ha perso Dopo un po' che tu mi hai visto Da qualche parte Cercalo Allora sperando che non ci resettano tutto Nella prossima puntata Ci vediamo nella prossima puntata Ciao 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 ragazzi Ciao ciao a tutti Ciao a tutti